Bussa due volte la Paganese con Murolo al quarto d'ora della prima frazione con l'esperto Pio Vacari in pieno recupero. Situazione di classifica di conseguenza sempre più complicata per il Potenza che si arrende per 2-0 al Marcello Torre e rimedia così la seconda sconfitta consecutiva. Dopo quella del Viviani contro il Messina, Lucani penultimi in classifica la battuta d'arresto. Costa la panchina a Fabio Gallo al suo posto in arrivo Bruno Trocini. Padroni di casa nel turno infrasettimanale della decima giornata vicini al vantaggio in apertura con Capitan Castaldo decisiva nella circostanza la deviazione di Gigli in corner. Replica dei Lucani, Salvemini calcia, Baiocco respinge, Volpe non incide sulla ribattuta anche per colpa della vistosa trattenuta di Bianchi. L'arbitro lascia correre. La Paganese passa poco dopo al termine di un'azione che nasce da calcio piazzato e Murolo a trovare il destro vincente con la evidente complicità di Marcone. La reazione del Potenza arriva a metà frazione, conclusione insidiosa di Capitan Coccia, Baiocco alza la traiettoria in calcio d'angolo. Buon finale di frazione degli ospiti che non disdegnano, anche la conclusione dalla lunga distanza. Bella giocata dalla parte opposta di Castaldo ma il tentativo difetta in precisione. Buona chance pure per il Potenza sul traversone di Maestrelli. Salvemini la spreca da buonissima posizione. La migliore occasione prima del riposo capita però ai padroni di casa ma guadagni la spreca così tutto solo davanti a Marcone. Un gol di differenza tra le due contendenti all'intervallo. Ripresa, punizione imprecisa di Firenze per la Paganese. Molto sfortunato il Potenza quando prima dell'ora di gioco Volpe conclude così una ripartenza. Il destro è imprendibile per Baiocco ma il palo salva il vantaggio dei campani. Entra Piovaccari nella Paganese, alza troppo la mila con il mancino, guadagni. Insidioso ma non efficace il sinistro di Costa Ferreira. Non cambia la forma e la sostanza del risultato anche la volè di Riccia 10 minuti dal termine. Idem dalla parte opposta lo smash di Zito. Marcone tiene in vita i suoi sulla conclusione di Firenze. Poi l'arbitro giudica regolare l'intervento in aria proprio su Piovaccari. L'ultima occasione per il pari degli ospiti capita a Costa Ferreira oltre il novantesimo. Si salva la Paganese che poi chiude i conti con il rasoterra vincente di Piovaccari. 2-0 e seconda sconfitta consecutiva per il Potenza. Il trittico di impegni in otto giorni si concluderà domenica al Viviani nello scontro diretto casalingo contro il Latina. Serve inutile nasconderlo. Ossigeno per la classifica.